La prossima settimana si dovrebbero concludere finalmente le indagini della sovrintendenza per capire, dal punto di vista archeologico, se nel sottosuolo a ridosso della Basilica in piazza San Marco vi siano reperti di rilevante importanza storica. Noi speriamo che finalmente questa situazione si porta a compimento e le indicazioni che abbiamo avuto in questi giorni è che nella prossima settimana potrebbero riprendere il lavoro. Quando ci dicono potrebbe siamo subito fortemente allarmati perché ormai il discorso della capacità di portare a compimento questa difesa della Basilica non ha trovato la tempestività di cui la Basilica ha assolutamente bisogno. Se dovessimo aspettare fino a metà marzo vuol dire che aspettiamo un altro mese e mezzo di disastri per la Basilica. Speriamo che finalmente tutti quelli che ci vogliono bene davvero ci dino una mano per salvare la Basilica di San Marco. Per realizzare le barriere mobili provvisorie che dovrebbero difendere la cattedrale di San Marco dall'alta marea si è comunque perso il periodo migliore e meno insidioso dal punto di vista del meteo per poter lavorare. Questo dispiace molto di più proprio perché questo poteva essere il periodo dell'anno in cui si poteva lavorare meglio e ottenere i migliori dei risultati. Nella realtà anche in questo periodo che non ci sono tante le acque alte la salsedine ha continuato a erodere i pavimenti, le colonne ed il tutto che è all'interno della Basilica. Grazie. Grazie.